Sì, benvenuti. Grazie Giulia, grazie Antonio per aver accettato di partecipare al nostro incontro come officina lavagnese che prosegue in questo percorso di conoscere le istituzioni e soprattutto educare alla legalità. Giulia si presenterà ma come abbiamo già specificato è una ragazza, una cantautrice lavagnese che si è distinta già dal 2019 per aver partecipato a questo premio importante e ha portato a casa il terzo premio a livello nazionale di musica contro le mafie. Ma io do subito la parola a lei perché vorrei che si presentasse lei. Questo incontro quindi è un incontro che continua per officina lavagnese, un percorso iniziato l'anno scorso è bloccato dal confinamento, trasportato quindi qui in streaming perché siamo consapevoli del fatto che conoscere questi percorsi, conoscere quello che sta succedendo in Italia e purtroppo anche in Liguria sia importante per vincere su quello che purtroppo sta diventando infiltrazione un po' dappertutto di queste realtà mafiose e di cui poi ci parlerà Antonio. A Cance, che io chiamo sempre Giulia, ecco la parola per dirci un po' qual è stata chi è lei e qual è stata questa esperienza. Grazie mille, grazie intanto Aurora e Officina Lavagnese perché è un piacere per me essere qui e poter portare quella che è stata la mia esperienza. Allora, mi presento in breve per chi appunto non mi conosce, mi chiamo Giulia Cancedda e sono di Lavagna, ho iniziato a muovere i miei primi passi infatti con la musica proprio a Lavagna perché ho studiato, facevo la sezione musicale delle scuole medie Don Gnocchi, quindi ho iniziato suonando la chitarra e contemporaneamente rimasi folgorata da una delle più belle voci della musica italiana che è Giorgia e da quel momento anche con il canto diventò proprio una forte passione, quindi la portai avanti come una passione. Poi diciamo che dopo il liceo decidetti di iscrivermi al conservatorio e quindi dopo tre anni mi diplomai in canto jazz. Poi decidetti di volare a Londra, quindi ho vissuto due anni a Londra e è stata una bellissima esperienza che mi ha permesso proprio di rafforzarmi sia come persona che come artista e anche in questo contesto ho conseguito un master di un anno in popular music performance, in canto pop e diciamo che una volta tornata, ho cercato di fare un riassunto significativo delle mie tappe più che altro, una volta tornata ho deciso e ho avuto anche la possibilità dopo un po' di anni di iniziare il mio percorso inedito come solista e conosci appunto il primo brano che ho buttato fuori anche in modo molto spontaneo nel senso che avevo già alcuni brani pronti ma molto più intimi, melodici, insomma introspettivi e così un giorno riflettendo una volta tornata su quella che era un po' la situazione in Italia vedendo anche tante mie amiche, insomma, la loro situazione, quindi parlo magari di stage, collaborazioni non pagate, persone che andavano avanti pur magari non meritandolo, eccetera, mi è venuto proprio dal cuore di scrivere questo brano con un filo di ironia che appunto va a denunciare questi tipi di episodi. Quindi è nato un po' tutto come un gioco, come uno sfogo e poi ho scoperto questo premio, nel senso che la canzone non l'ho scritta apposta per il premio Musica contro le mafie. Un giorno mi arrivò un messaggio via Instagram, iscrivete al premio Musica contro le mafie, ho iniziato a curiosare sul sito, ho visto appunto quelli che erano un po' gli ideali in cui loro credono, ma quindi anche l'impegno sociale, eccetera, e ho detto cavolo, ma quello di cui ho parlato io è una forma di mafia comunque, sono curiosa di vedere cosa succede, cioè mi piacerebbe iscriverlo a questo premio. Era un'iscrizione gratuita, quindi io sono sempre stata un po' all'inizio contro i concorsi in generale, però questo mi ispirava, non lo so, fiducia e un ambiente pulito, ero curiosa, quindi mi sono iscritta e poi è andata, non me l'aspettavo, cioè un po' ci credevo in questo brano, sono sincera, comunque le volte in cui sono convinta, cioè è bello anche ogni tanto credere in se stessi, sono sempre stata una molto, in alcuni casi anche pessimista, eccetera, quindi per una volta ho avuto questa intuizione, ho detto cavoli, questo brano secondo me lancia un messaggio importante può funzionare e quindi poi di conseguenza è stato tutto un succedersi di sorprese che mi hanno portato appunto a fare la finale poi a Cosenza, dal vivo, nel teatro e diciamo che da quel momento mi si è aperto anche proprio un portone, nel senso che mi ha permesso di entrare anche più a contatto appunto con una realtà che è apparentemente lontana da noi, apparentemente appunto, e quindi ho iniziato anche ad appassionarmi molto di più e a queste tematiche e a capire che si può fare musica parlando di tematiche sociali, magari è un po' più difficile perché risulti un po' più scomoda, impopolare in alcuni casi, però ho capito che si può fare ed è anche un nostro dovere in quanto artisti, penso, e quindi ho iniziato proprio un percorso con Musica Contro le Mafie che mi ha portato poi anche a essere tra i residenti di Soundbox, questa residenza artistica organizzata a Cosenza di una settimana dove abbiamo scritto e prodotto lì con l'aiuto dei coach, tecnici, eccetera, ognuno, ogni artista ha un brano, quindi dieci brani sempre su tematiche sociali. Il mio brano è uscito da poco e si chiama Basta che se ne parli. Ho cercato di fare un riassuntino, spero di essere stata logorroica. Grazie Giulia, poi scopriremo, Giulia è su YouTube e comunque è conosciutissima, le facciamo non solo i complimenti, ma un grande, no davvero, in bocca al lupo perché questo filone impegnativo mette in luce quelle che sono tutte le problematiche giovanili, assolutamente, e quindi veramente merita tanto. Ti ringraziamo ancora e ti auguriamo un buon percorso. E con Antonio un altro giovane impegnato in un altro, diciamo, in un'altra realtà. Lui fa parte di un gruppo di giovani che ha dedicato moltissimo del suo tempo e continua a dedicare perché l'obiettivo è quello di proporre, di dare le informazioni su quelle che sono le realtà in Liguria. Infatti fa parte del gruppo Boris Giuliano e ha scritto moltissimo ed ha pubblicato nel sito Mafie in Liguria. Ma ci dirà lui, gli diamo subito la parola perché il percorso di Antonio che ci presenterà è impegnativo perché purtroppo anche il Tiguglio, purtroppo Lavagna, ecco, ha conosciuto dei momenti purtroppo molto negativi. Antonio a te e ancora grazie per la tua presenza. Allora innanzitutto grazie a voi, a me fa molto piacere essere qua con voi anche se a distanza. Questo era un evento, lo saprete, nato l'anno scorso, quindi pensato in presenza, però poi per ovvie ragioni non si è potuto fare. Quindi cerchiamo di rimediare oggi in modalità telematica. Innanzitutto io vorrei un attimo agganciarmi a quello che stava dicendo Giulia sull'importanza della musica nel parlare di questi temi. Non so se forse sì, fra voi ci sono alcuni insegnanti, però io spesso con Libera, vedo che c'è anche Alessandra, lei lo sa perché abbiamo fatto attività insieme, andiamo nelle scuole e spesso il primo approccio con i ragazzi parte proprio da una canzone su tutti i cento passi dei Modena per raccontare la storia di Peppini Impastato. Quindi raccontare certi fenomeni, certi fatti con una canzone a volte può essere molto più utile di quanto non si pensi. Detto questo, allora io mi presento brevemente. Mi chiamo Antonio, ho studiato giurisprudenza, ho 25 anni, attualmente frequento una scuola di magistratura qua a Genova e sono in attesa di poter fare l'esame di Stato per abilitarmi alla professione forense, sperando che si possa fare ad aprile. Qualche anno fa, nel 2015, con un gruppo di volontari di Libera a Genova abbiamo fondato l'osservatorio Boris Giuliano, che è un sito, mafiaeligure.it, che nasce con un semplice obiettivo, quello di raccontare i fatti di mafia alla popolazione ligure, genovese, ligure e anche a livello nazionale. E questo non perché non ci fossero già abbastanza canali comunicativi, l'attività giornalistica sul punto c'è, presente, intensa, però spesso sentivamo l'esigenza di raccontare i fatti in modo un po' più tecnico, o comunque in modo un po' più preciso. E quindi abbiamo iniziato a prendere le sentenze derivanti dai procedimenti di mafia, in essere un corso sul territorio ligure, e a fondamentalmente raccontarla, fare un'esegesi, perché spesso chiunque prenda in mano una sentenza, io per primo, non ci si capisce niente alla prima lettura. Quindi abbiamo messo insieme un po' le nostre competenze, siamo tutti studenti o ex studenti di giurisprudenza, e abbiamo deciso di iniziare a spiegare, a fare una vera e propria esegesi dei test giurisprudenziali, quindi delle sentenze. Fatta questa premessa, oggi, in questi 20-30 minuti che ho a disposizione, vorrei un po' raccontarvi, parlare con voi, affrontare con voi il tema della mafia in Liguria, ma soprattutto della mafia Lavagna, perché, ovviamente bisogno che ve lo ripeta, Lavagna è stata, ahimè, interessata, è tuttora interessata, da un procedimento giudiziario la cui imputazione principale, la cui accusa principale, è proprio quella di associazione di tipo mafioso. Non è ovviamente un fenomeno isolato, quello di Lavagna, perché la mafia in Liguria ha radici, ahimè, storiche, è un fenomeno che in realtà è presente già dagli anni 70-80, anche se solo nel 2000 poi si sono avuti i primi procedimenti. Fra questi importanti procedimenti abbiamo avuto, ad esempio, il procedimento La Svolta, che è concluso e che ha accertato definitivamente la presenza dell'andrangheta, quindi della mafia calabrese, nel ponente Ligure, 20 miglia a Bordighera. Poi spostandoci, seguendo proprio un orientamento geografico a Genova, abbiamo avuto il procedimento Maglio 3, anch'esso concluso, che ha accertato la presenza dell'andrangheta a Genova. E, proseguendo verso Levante, abbiamo il noto procedimento denominato i conti di Lavagna. Procedimento, come dicevo, ancora in corso. Siamo ad oggi in grado di appello, quindi non è ancora un procedimento definitivo. C'è ancora il grado di cassazione, che potrebbe dire tutt'altro rispetto a quello detto finora, però già dalle sentenze di primo e di secondo grado si può trarre qualche spunto interessante e, insomma, c'è qualche episodio, c'è qualche questione che merita di essere analizzata. E quindi, visto che siamo, anche se solo virtualmente sul territorio lavagnese, io vi parlerei soprattutto di questo procedimento. Come dicevo, lo ripeto, perché comunque è importante, è ancora in corso, quindi la chiave di lettura del mio intervento è ovviamente, come è giusto che sia, una chiave improntata al garantismo. Quindi teniamo sempre a mente l'aggettivo presunto, i condizionali, perché, vi dicevo, il processo non è ancora definitivo, il procedimento non è ancora, le condanne non sono ancora definitive. Ora, io non starò ogni volta a usare il condizionale, a usare l'aggettivo presunto, però, insomma, teniamo la mente, perché è importante anche questo. Dunque, i miei procedimenti conti di lavagna. Non c'è bisogno che vi dica com'è nato. Voi sicuramente lo saprete meglio di me. È nato ormai sette, otto anni fa, era il, se non sbaglio, era il 2013. Ci furono gli arresti, il comune venne sciolto per infiltrazioni mafiosi, partirono le indagini e si è arrivati poi nel 2019, nel giugno del 2019, alla prima storica sentenza di primo grado di condanna. Ora, le imputazioni, ossia le accuse, sono tante. E i reati contestati sono tanti. 2016, Antonio. 2016, scusa, no, 2016. Sì, 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 2016, ho usato il lapsus. Giugno 2016, è quello. Sì, 2013 era troppo datato. Dicevo, i reati contestati sono tanti. La sentenza di primo grado ha più di 300 pagine. Quindi io mi concentrerò su quelli che sono poi, ovviamente, anche i più interessanti. In due in particolare. in particolare, il reato di associazione di tipo mafioso e la corruzione elettorale. Perché, anche qui, non c'è bisogno che ve lo dica, voi sapete che nel 2014, nel maggio 2014, alla Lavagna ci furono elezioni, elezioni comunali, e nelle sentenze di primo e di secondo grado si sono accertate delle dinamiche corruttive che hanno sorretto e hanno interessato le consultazioni elettorali del maggio 2014. Non per niente poi il Comune è stato sciolto per infiltrazioni mafiosi. Allora, per quanto riguarda il primo reato contestato, il reato più importante, quello di associazione di tipo mafiosa, questo è stato contestato in particolare a quattro soggetti. I signori, io non credo sia corretto con le dovute precisazioni fare i nomi, perché tanto le sentenze sono pubbliche, sono liberamente consultabili, così come sono pubbliche anche le udienze, ai signori Nucera e al signor Rodà Francesco. Questi quattro personaggi sono stati imputati e condannati in primo e in secondo grado per il reato di associazione di tipo mafiosi. In soldoni, per farla semplice, secondo i giudici di primo e di secondo grado, questi quattro signori avrebbero costituito una succursale di andrangheta, una locale, si dice in gergo, nel territorio lavagnese. E questo poi ha vari scopi, ha vari fini, gestire l'attività dei rifiuti, gestire le attività amministrative, infiltrarsi nell'attività politica e così via. Quindi, oltre al reato contestato di base, quindi il reato di associazione mafiosa, ci sono tutta una serie di cosiddetti reati spia, quindi di reati ulteriori che testimoniano, quindi che confermano la presenza dell'associazione mafiosa sul territorio. Ad esempio, le estorsioni, le minacce, la corruzione elettorale di cui parleremo, il possesso di armi, ad esempio è stato trovato in Macarasco, mi pare, in una località poco fuori lavagna, un vero e proprio arsenale di cui il presunto sodalizio mafioso aveva a disposizione. Quindi questo è il contesto. Ora io vorrei dirvi in breve su che base poi, quali sono le prove, gli elementi, le risultanze esteriori che hanno portato i giudici di primo e secondo grado a condannare questi quattro personaggi per il reato contestato. In primo luogo è stato accertato un collegamento con la casa madre. Cosa vuol dire? L'andrangheta ovviamente ha la sua sede principale, possiamo dire così, in Calabria. Quindi spesso si dice quando la mafia è delocalizzata, quindi al nord, è necessario individuare un collegamento con appunto si chiama proprio, si dice, casa madre, quindi con l'andrangheta calabrese. Nel procedimento lavagnese questo è avvenuto, questo è stato accertato perché sono stati accertati numerosi contatti, numerosi rapporti con parenti di soggetti già condannati anche loro per l'associazione mafiosa e detenuti nel nord Italia. Spesso cosa accadeva? Che venivano dal sud Italia parenti dei detenuti nei carceri di Voghera, Parma, anche Genova e questi personaggi lavagnesi davano un supporto logistico e a volte anche economico a queste persone. Quindi questo è un primo elemento, quindi un collegamento con altri esponenti dell'associazione mafiosa, quindi altri esponenti dell'andrangheta. Ovviamente in ottica difensiva si sosteneva che queste fossero in realtà meri rapporti di cortesia, meri rapporti dovuti comunque anche alle parentele, però ovviamente questo poi non è l'unico elemento su cui si è fondata la condanna, ovvio che no. E infatti un ulteriore elemento che è necessario perché si possa dire che su un territorio c'è un sodalizio criminale è quello dell'intimidazione. È necessario accertare che il gruppo criminale abbia effettivamente portato avanti attività intimidatorie sul territorio oggetto appunto di infiltrazione, in questo caso la cittadina di Lavagna. E queste attività di intimidazione sono state accertate mediante le intercettazioni ambientali soprattutto, sono state accertate soprattutto nei confronti anche di esponenti della politica lavagnese, esponenti che poi ritroveremo fra dieci minuti nel capo di imputazione sulla corruzione elettorale. In particolare, adesso vi leggo direttamente qualche passaggio della sentenza, rappresentativo ad esempio l'episodio che vede protagonista Antonio Nucera, uno dei due, uno dei quattro condannati per il reato di associazione di tipo mafioso, lo vede protagonista al comune di Lavagna, si è recato al comune a redarguire una dipendente comunale dicendole che era una rompiscatole, che non si doveva intromettere, che sarebbe finita in un sacco infondato un buco, leggo dalla sentenza, e di stare attenta perché io sono calabrese e i calabresi ammazzano. Quindi questo è abbastanza esplicativo di quello che fosse il contesto intimidatorio ed è solo uno dei tanti episodi che poi sono stati riportati in sentenza. Qual è il problema di fondo? Il problema di fondo è uno, fin dal 1995 e questo lo disse già la commissione antimafia nel 2001, la gestione dello smaltimento dei rifiuti era in mano alla famiglia Nucera e in questo, nel periodo imminente, cioè precedente alle elezioni e anche nel periodo successivo, la famiglia Nucera è interessata a mantenere il controllo sulla gestione dei rifiuti e nel momento in cui si rendono conto che rischiano di perdere questo monopolio ecco che partono le intimidazioni, si, possiamo chiamarle così, quindi i dipendenti comunali vengono redarguiti quindi si sfonda la porta, si entra in comune proprio in tranquillità e si minaccia il dipendente comunale di turno. Lo stesso sindaco, l'ex sindaco, quello che all'epoca era sindaco, Giuseppe Sanguinetti di Etiopino in un'intercettazione ambientale mentre parla con i suoi collaboratori e si sta parlando della possibilità di cambiare le cose in tema di gestione dei rifiuti dice anche qui leggo ma cosa ci volete fare? Non ci possiamo fare nulla qui da vent'anni la spazzatura in mano a Inucera in mano a Maifiosi noi non possiamo farci nulla quindi queste sono le parole del sindaco anche se riportate in sentenza quindi da elementi come questi viene ricostruita una forza viene appunto accertata una vera e propria capacità intimidatoria di questo gruppo di questi esponenti nei confronti del territorio lavagnese e soprattutto dell'amministrazione lavagnese quindi dell'amministrazione comunale poi vengono accertati anche una serie di numerosi contatti con esponenti della micro criminalità ligure lavagnese vengono accertati contatti con esponenti di altri locali di Andrangheta già condannati in altri processi la svolta è maio 3 perché voi dovete sapere che anche se i processi sono distinti in realtà l'Andrangheta in Liguria è un fenomeno unitario quindi tutti si conoscevano erano tutti in un unico in un'unica vera associazione in un'unica associazione appunto tutti i membri dell'Andrangheta accertati o presunti ancora durante il processo è stato chiamato a testimoniare un testimone di cui adesso metto il nome perché appunto era solo un testimone questo testimone ha descritto gli imputati in particolare il signor Paolo Lucera che è ritenuto è stato ritenuto in primo e secondo grado capo della locale di Andrangheta a Lavagna lo ha definito come una persona tranquilla in realtà dalle indagini infatti questa circostanza è stata precisata era immerso che il signor Paolo Lucera si fosse riferito a questo testimone che doveva dei soldi a alcuni soggetti in questo modo ti metto sotto con la macchina ti gonfio di botte ti spacco di botte ti picchio anche davanti ai tuoi figli scusate non era Lucera Paolo era Rodà Francesco quello che dice queste cose al testimone anche lui imputato e condannato in primo e secondo grado per il reato di associazione mafia quindi sulla base di tutti questi elementi viene accertata e vi è secondo il giudice di primo grado ma anche il giudice li appello perché la condanna è stata confermata la presenza di una vera e propria locale di Indrangheta a Lavagna e quindi questi i quattro esponenti che dicevo all'inizio i tre fratelli in Ucera e il signor Rodà Francesco Antonio vengono condannati per il delitto di associazione mafiosa quindi questa è la prima è il primo capo il primo e principale capo di imputazione ve l'ho riepilogato in modo molto veloce scusate anche se non sono stato magari in certi punti chiarissimo però voglio passare al successivo capo di imputazione che è un po' più interessante è anche un po' più stimolante per poi per la platea il secondo capo di imputazione è quello di corruzione elettorale quindi accertata la presenza di una locale quindi di un di una succursale di indrangheta lavagna formata da questi quattro signori che facevano queste cose e su tutti avevano l'obiettivo di mantenere il controllo dei rifiuti della gestione dei rifiuti a lavagna passiamo appunto a un altro capo di un altro dei tanti capi di imputazione che è appunto quello sulla corruzione elettorale cos'è la corruzione elettorale lo dice la parola stessa è un accordo corruttivo per cui una persona che di solito è un politico chiede a un altro soggetto in questo caso il signor Paolo Lucera un pacchetto di voti in cambio di determinati favori che poi vedremo quali sono allora premettiamo chi sono gli imputati e i condannati in in primo questo lo preciso perché ne parlavamo anche con Aurora un po' di tempo fa per questo capo di imputazione sono sempre il signor Paolo Lucera quindi è stato imputato e condannato il signor Paolo Lucera sia per il delitto di associazione mafiosa sia per il delitto di corruzione elettorale poi l'ex sindaco Pino Giuseppe Pino Sanguinetti condannato in primo grado e la condanna è stata confermata in secondo grado in appello mentre è stato assolto dal reato di abuso d'ufficio il signor mandato Ettore anche lui condannato in primo grado assolto in appello scusate è confermata la condanna in appello mentre l'ex sindaco Gabriella Mondello è stata condannata in primo grado mentre in appello il suo capo di imputazione è stato dichiarato nullo quindi per farvela semplice vi risparmi i tecnicismi il processo è da rifare va rifatto da zero poi quando verrà rifatto potrà essere o condannata o assolta però ad ora ad oggi il processo è da rifare perché l'imputazione era generica non era precisa non era determinata e quindi l'imputazione è nulla ripeto poi è un tecnicismo che vi risparmio però il processo per lei andrà rifatto ora che cosa succede il 25 maggio 2014 confermatemi se sbaglio il Giuseppe Sanguinetti Pino detto Pino Sanguinetti viene eletto sindaco di Lavagna con 2288 preferenze una spia che deve subito farci riflettere è che di queste preferenze molte sono collocate nel quartiere di Corea dove abitano e hanno molti interessi e hanno le loro attività alcuni esponenti della presunta locale di Indrangheta quindi signor Inucera e signor Rodà Francesco Antonio quindi questo è il primo campanello di allarme però poi gli inquiretti i poliziotti i magistrati vanno avanti con le indagini e che cosa scoprono? scoprono dei veri e propri accordi pre-elettorali perché che cosa succede? succede che una volta eletto in data appunto dicevo 25 maggio accade che il 29 maggio Pino questo è tutto accertato e documentato nella sentenza il 29 maggio sera il signor il sindaco l'ex sindaco Pino Sanguinetti deve recarsi in comune per nominare gli assessori e conferire le varie deleghe prima di andare in comune in bicicletta si reca all'hotel Ambra di Lavagna di proprietà del signor Paolo Inucera e inizia a parlare col signor Paolo Inucera i due vengono intercettati con le con le spie ambientali quindi intercettazioni di tipo ambientale che sono cosa diversa dalla intercettazione telefonica e che cosa cosa emerge dalle conversazioni che comunque sono tutte riportate nella sentenza se vi volete leggere emerge che il signor Paolo Inucera vorrebbe che un suo uomo di fiducia anche egli poi imputato ma assolto dal reato di corruzione elettorale diventasse assessore ai rifiuti con con delega almeno ai lavori pubblici quindi cagli su un determinato ruolo nella giunta comunale e invece che cosa succede succede che il signor Pino Sanguinetti decide di dare la delega alla nettezza urbana l'assessorato ai rifiuti e le rispettive deleghe a un'altra persona e decide di dare all'uomo di fiducia di Paolo Inucera una delega minore al demanio senza farlo assessore a questo punto glielo dice proprio gli do il suo ufficio come se fosse un assessore e anche se cosa vuoi di più dalla vita gli dice anche se non è assessore comunque al suo ufficio la sua scrivania addirittura gli dice non ti preoccupare che in ogni caso in questo in ogni caso facciamo come vogliamo noi queste sono le parole del sindaco e di fronte però a queste a queste considerazioni a queste precisazioni del dell'ex sindaco di Pino Sanguinetti il signor Paolo Inucera Codafà si arrabbia e inizia a dire che lui e i suoi paesani non sono dei pagliacci che quando lui promette una cosa poi la fa e insomma si sente preso in giro sulla base di questa discussione e poi anche di altri episodi che adesso per celerità non la tralascio i giudici di primo e secondo grado che cosa fanno ricostruiscono un vero e proprio accordo pre-elettorale un vero e proprio accordo corruttivo secondo cui il signor Paolo Inucera si era impegnato a procacciare a a Pino Sanguinetti e a Giuseppe Sanguinetti dei voti e in cambio il sindaco Giuseppe Sanguinetti avrebbe dovuto conferire un importante assessorato con delle importanti deleghi a un uomo di fiducia di Paolo Inucera il sindaco questo non lo fa e quindi questo vi dicevo scatena un po' la rabbia di Paolo Inucera che si sente appunto tradito dice proprio io quando io prometto una cosa poi la faccio io e i miei padai non siamo dei pagliacci io ho fatto le cose come andavano fatte quindi queste sono le frasi il fatto che il sindaco Pino Sanguinetti Giuseppe Sanguinetti abbia poi deciso di non conferire più la delega l'assessorato all'uomo di fiducia di Paolo Inucera è poi oggetto di ulteriori discussioni fra altri esponenti della politica lavagnese in particolare la signora Mondello che poi vi dicevo è stata è stata il cui capo di imputazione è stato dichiarato nulla in appello e il vice sindaco il signor Barbieri lui ecco preciso che è stato imputato solo di abuso d'ufficio e il suo capo di imputazione è stato dichiarato nullo quindi come la Mondello già in primo grado ok quindi non ha condanne questo l'ho preciso in una discussione si parla di questo e si dice si fa riferimento si commenta il fatto che Giuseppe Sanguinetti abbia deciso di non assecondare la richiesta di Paolo Inucera circa l'assessorato e si dice lui Pino queste cose non le sa queste cose non le conosce non è la prima volta che subiamo pressioni in modello Calabria e Pino queste cose non le capisce quella è gente da trattare con cura come li ha cercati per i voti qua leggo le trascrizioni delle intercettazioni come li ha cercati per i voti non è che poi e interrompe la frase quello è un uomo pericoloso sulla base di questi episodi di queste intercettazioni quindi vi dicevo viene ricostruito un vero accordo preelettorale un vero accordo corruttivo quindi una richiesta di voti dietro ad una promessa e quindi si arriva alle condanne in primo grado per Sanguinetti Nucera Paolo è mandato Ettore e in primo grado anche per la Mondello il cui capo appunto dicevo poi è stato dichiarato nulla per il delitto di corruzione elettorale in particolare scrive il tribunale ve lo leggo i fatti così ricostruiti integrano il reato contestato essendo provato un patto preelettorale in forza del quale Nucera Paolo tramite la propria capacità di condizionamento è riuscito a portare voti alla lista Sanguinetti in cambio della promessa di un assessorato gradito quello ai rifiuti e di una condotta amministrativa di favore nel settore in cui la famiglia Nucera esercitava indisturbata la propria attività imprenditoriale da tempo in forza di una convenzione sottoscritta dalla Mondello e di prossima scadenza questo è quello che dice la sentenza di primo grado e che poi è stata confermata in appello salvo sempre il solito discorso relativo a Gabriella Mondello concludo dicendovi che cos'è che avevano sostenuto hanno sostenuto gli imputati per difendersi in particolare hanno sostenuto che trattandosi di un territorio limitato molto piccolo come può essere appunto un paese era cosa normale che i candidati politici si riferissero direttamente a persone magari molto influenti sul territorio per avere un supporto elettorale e che le condotte di signor Paolo Lucera fossero in realtà solamente condotte di grandi impegni in una campagna elettorale ma che non avessero nulla nessuna dinamica corruttiva il tribunale di primo grado e poi la corte d'appello in realtà non condividono ovviamente questa lettura e scrivono quanto al fatto che Sanguinetti abbia chiesto dei voti a Lucera ciò si desume da numerosi dialoghi che fanno riferimento a questo pacchetto di voti e dai numerosi scrive il tribunale contatti diretti fra Sanguinetti e Lucera in fase preelettorale inoltre appare evidente come Paolo Lucera abbia cercato di incassare il prezzo della sua attivazione fin dal giorno immediatamente successivo alle elezioni il sindaco abbia sempre agito in una dinamica corruttiva ma a un certo punto si sia trovato in una condizione imbalazzante scrive il tribunale di dover nominare assessore un soggetto che in realtà aveva avuto meno preferenza di altri e che secondo il sindaco stesso non aveva le competenze necessarie infatti a un certo punto il sindaco in un'intercettazione dice non lo posso fare assessore questo tuo uomo di fiducia perché sennò ci manda tutte in galera non è capace infatti poi lo farà abbiamo visto solo consigliere con delega al demanio e questo scatenerà fra virgolette l'ira del signor Paolo Lucera che proferirà quelle frasi che vi dicevo prima ossia io quando prometto una cosa la faccio io e i miei compasani non siamo dei pagliacci io ho fatto tutto quello che mi ha chiesto e adesso va bene non lo nominasse solo consigliere con delega non assessore però a patto dice e concludo a condizione che non ci siano problemi e che le cose si facciano come vadano fatte e il sindaco lo rassicura sì sì non ti preoccupare in ogni caso in questo settore facciamo come vogliamo noi quindi questi sono appunto i fatti che poi fondano la condanna per corruzione elettorale ripeto condanna confermata in appello e adesso ovviamente bisognerà vedere gli imputati immagino faranno come è loro diritto il ricorso in casazione quindi bisognerà vedere la corte di casazione se e in che termini confermerà queste condanne ricordando e chiudo veramente che la casazione non è un organo giurisdizionale di merito quindi non accerta il merito dei fatti ma è un organo si dice di legittimità cioè accerta che la legge sia stata applicata correttamente ma non mette più in discussione i fatti quanto è successo è stato accertato nel corto delle indagini e nel corso dei procedimenti di primo e secondo grado la casazione potrà al massimo valutare e verificare che in relazione a quei fatti la legge sia stata applicata e anzi interpretata ed applicata correttamente altre valutazioni ripeto di merito non le può fare quindi è un giudizio più ristretto perché appunto non abbraccia il merito ma solo la legittimità della questione e niente quindi con questa carrellata di fatti di sentenze di condanne di nomi sempre tenendo a mente l'imperativo da cui partivo che è un procedimento ancora non definitivo una condanna ancora non definitiva io mi taccio ho finito se avete dubbi curiosità sono a disposizione ti ringrazio Antonio per questa tua presentazione assolutamente oggettiva dei fatti che molti di noi poi ovviamente dall'Avagnese hanno conosciuto nel tempo mi permetto di aggiungere che il signor Nucera effettivamente per come hai detto tu per una convenzione stipulata già con l'ex sindaco Mondello aveva mantenuto il locale di Madonna della Neve fino al 2014 ma dal 2005 se non sbaglio non aveva più vinto il bando per diciamo il servizio dei rifiuti a Lavagna quindi questo così per completare il tutto vorrei aggiungere prima di passare alle domande anche che questo nostro percorso che parte dai fatti che molti di noi poi hanno scoperto nel tempo vuole mettere in risalto comunque la bontà del tessuto Lavagnese la bontà dei Lavagnesi e di tutto il territorio persone attive persone laboriose come mi piace sempre dire che gradiscono la trasparenza in tutto e per tutto e quindi diciamo che meritano ben altro ecco perché nel nostro piccolo vogliamo dare questa opportunità di conoscenza proprio perché la consapevolezza ci porti poi ad allontanarci da certi fatti ora prima di passare alle domande che so che ci sono io non so direi a Laura se il caso di staccare la registrazione e ripartire perché non durerà fino in fondo oppure Laura cosa dici oppure ce la facciamo ad arrivare con quest'unica registrazione siamo a circa 45-46 minuti di diretta per cui ci manca diciamo abbiamo un 10 minuti a disposizione per le domande se cance non ha altro da aggiungere se no i tempi sono effettivamente un po' stretti ecco non ho altro da aggiungere è molto interessante ascoltarvi quindi ascolto volentieri le domande direi che ho parlato sin troppo prima sì volevamo salutare poi cance alla fine con magari con qualche nota della sua ultima canzone non so io direi di passare alle domande poi quello che riusciamo a registrare registriamo altrimenti l'altro resta fuori va bene siete d'accordo così? per me va benissimo ringraziamo tutti anticipatamente e poi andiamo avanti chi si può insomma sì va bene veramente grazie allora chi è che so che c'è qualche domanda in arrivo se nessuno chiede niente provo a chiedere una cosa io se siete d'accordo sono Daniele nel caso non l'aveste visto volevo chiedere questo mi ha colpito io sono di Chiavari ma dovrei forse saperne di più di cose di Lavagna ma evidentemente il fiume in mezzo poi fa in modo che certe cose poi si ignorino anche a distanza di pochi metri cioè la cosa che mi ha colpito che forse non sapevo fino in fondo è come fosse capillare tutta questa storia cioè interessasse dalle attività economiche la politica e obiettivamente mi viene anche il sospetto che non so ci possono essere ancora adesso ancora in questo momento dei fatti criminali che forse non emergono ovviamente da questa indagine perché questa indagine riguarda un certo momento certo però non mi sembra strano che tutto quello che è accaduto non sia continuando ancora in qualche modo ecco allora so che magari non potete rispondere ma mi chiedevo se c'era un monitoraggio su queste su questa possibilità se continuava ad esserci una una sorveglianza attiva diciamo su queste attività di 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 questa rete mafiosa perché poi non è una pseudomafia questa è proprio mafia vera e propria cioè dangheta vera e propria con tutti i propri crismi ecco quindi mi chiedevo se viene continuamente monitorata la situazione sul territorio lavagnese non solo presumo perché viene proprio il dubbio che continuino i fatti di estorsione di insomma fatti malabitosi di questo genere niente non so se qualcuno mi può rispondere su questo su questo fatto Antonio ne sai qualcosa ci puoi illuminare ecco io posso dire posso dire questo allora in realtà spesso ci si può chiedere legittimamente come ha fatto Daniele ma come mai per anni questo era sempre stato sotto gli occhi di tutti nessuno se ne è accorto ma come è possibile e adesso ce ne riusciamo ad accorgercene il problema secondo me spesso si dice le persone non sono più interessate alla politica non si interessano più della cosa comune quindi chiudono gli occhi vanno avanti questo forse è vero però c'è anche un altro lato della medaglia che è questo che purtroppo la mafia soprattutto al nord Italia ha assunto ormai connotati della cosiddetta mafia silente cosa vuol dire che se la mafia di un tempo forse ancora oggi magari al sud Italia la mafia non so la camorra o cosa nostra è una mafia molto eclatante quindi c'è il fatto di sangue il fatto di cronaca la mafia al nord soprattutto l'andrangheta in generale è una mafia che tende a sommergersi a infiltrarsi nella società in modo appunto silente in modo mimetico e quindi risulta molto difficile se non non si è proprio dentro i palazzi fra virgolette del potere i palazzi della politica rendersi conto di certi fenomeni perché se per vent'anni la gestione dei rifiuti è stata monopolio dei signori in ucera che la gestivano che gestivano la situazione con il sindaco di turno in una stanza finché il 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 magistrato di turno non va a mettere una vera propria microspia nell'ufficio del sindaco e a sentire certe cose non 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 se ne fa nulla non non si non si scopre nulla quindi è effettivamente un problema sicuramente quello che noi poi diciamo sempre è che incontri come questi sono utili per iniziare a farsi un'idea e iniziare magari a sentire anche dei nomi e sentire quello che a sentire dei fatti e poi un domani essere dei dei cittadini soprattutto il giorno delle lezioni un po' più come si dice un po' più attenti ecco però questo non è sicuramente un un percorso facile e l'attività dell'officina lavagnese è sicuramente un punto di partenza per creare dei dei cittadini un po' più attenti e un po' più conscienziosi però attualmente ecco forse non mi rendo conto di aver dato una non risposta io comunque non essendo sul territorio lavagnese non so poi concretamente sicuramente l'impegno vostro c'è si vede però poi non so concretamente attualmente che cosa quale siano le reazioni principali anzi visto poi le ultime consultazioni elettorali mi sembra che sia quasi non so sbaglio indifferenza nei confronti di questi problemi sembra quasi che non li si voglia analizzare interpretare come in realtà andrebbero analizzati interpretati e questo diciamo dovete dirmelo voi perché io non vivendo il territorio lavagnese o comunque non essendo di quelle zone non non saprei quale potrebbe essere anzi quale in questo momento dovrebbe essere la risposta sul territorio non so se ma io posso dire che sicuramente è stato uno shock per tutti perché non si pensava che fosse un fenomeno così invasivo sicuramente c'è stata molta tensione io dico spero quindi che il territorio i lavagnese e il territorio abbiano imparato o abbiamo tutti quanti imparato molto ecco momenti come questi o altri che sul territorio vengono presentati sono importanti perché appunto poche persone poi si sono fermate a capire cosa sia successo veramente tu oggi hai dato alcuni esempi abbastanza chiari ecco quindi speriamo che effettivamente ci sia stata e ci sia tuttora e ci sia anche in seguito la consapevolezza che non bisogna mai abbassare la guardia questo io penso che sicuramente questo shock del 2016 sia servito a tutti noi questo spero ecco ma credo questo vi prendo un attimo questo questo incontro appunto lo stavo già dicendo già di per sé è un qualcosa per provare a dare una risposta a Daniele che dimostra quello che si può fare a me sarebbe piaciuto fare questo come immagino a tutti fare organizzare questo evento in presenza a Lavagna sul territorio di Lavagna a 30 metri da non lo so dal dall'hotel di proprietà del signor Nucera o a 300 metri dal comune dove tre anni fa l'altro signor Nucera entrava minacciando la dipendente comunale mi sarebbe proprio piaciuto probabilmente avremmo avuto magari anche più seguito forse chissà anche da qualche da qualche personaggio da qualche interessato in chiave critica però sarebbe stato sicuramente un passo avanti non che questo non lo sia però sarebbe stato sicuramente più incisivo perché organizzare un evento di questa porta sul territorio quindi proprio in presenza quindi far sentire la presenza fisica fare nomi e cognomi parlare leggere le sentenze sicuramente avrebbe smosso tante coscienze e da lì poi si crea un percorso di acquisizione di consapevolezza che un domani poi porterà allo sradicamento di certe mentalità e di di certe situazioni dai territori in questo caso dal territorio di Lavagna quindi questo è un invito ovviamente che sicuramente sarà colto a continuare l'attività e appena si potrà a tornare in presenza a tornare sul territorio io per primo vengo a rifare questo evento nel sul territorio lavagnese e cercare di veramente stimolare e responsabilizzare gli indifferenti perché noi qua siamo tutte persone immagini impegnate che leggono le cose si informano e la nostra vera sfida è andare a prendere il ragazzino di turno che l'anno prossimo voterà per la prima volta che non sa nulla di queste cose e dirgli lo sai che è successo questo e questo e questo che questi hanno fatto questo e quest'altro l'anno prossimo tu voterai vota responsabilmente quindi secondo me la sfida dovrà essere un po' questa certo la pandemia non è d'aiuto questo è poco ma sicuro anzi la pandemia forse e queste non sono considerazioni mie presta un po' il fianco ai fenomeni corruttivi perché non c'è più pubblicità non c'è più presenza fisica si fa tutto al telefono a distanza e quindi insomma anche le realtà mafiose magari hanno più possibilità di infiltrarsi in determinati contesti come può essere appunto quello politico sì così si dice io comunque sono fiduciosa vedo la presenza qui di diverse persone impegnate nelle associazioni e penso che tutti assieme a me comunque si possa veramente operare per il bene comune come si suol dire ci sono altri interventi si metella va ciao sono metella del presidio green qua del tibullio ti volevo chiedere io tra l'altro ho partecipato a molte udienze del processo di primo grado e è stata un'esperienza devo dire molto toccante non avevo mai partecipato non ero mai entrata in un'aula del tribunale e sentire i testimoni che appunto come hai detto tu erano stati minacciati faceva un certo effetto è stato purtroppo per il motivo di questo virus del covid la sentenza di secondo grado non è stato il processo di secondo grado non è stato fatto al pubblico e mi è dispiaciuto perché l'avrei seguito sicuramente questa è una premessa ma per la mia esperienza ti volevo chiedere i beni che hanno confiscato a queste persone sono confiscati in primo grado mi pare o in secondo grado in appello le confische sono confermate le condanne sono confermate anche le confische se vi può interessare l'unica confisca che è stata eliminata è la confisca di un Rolex del signor Paltenieri Paolo che era stato condannato in primo grado ma è stato assolto per non aver commesso il fatto dal delitto di associazione mafiosa quindi però le altre sono confermate e quindi nella cassazione però bisogna aspettare la cassazione per avere la confisca definitiva certo tutte le statuizioni dei procedimenti di primo e di secondo grado poi ovviamente seguiranno dovranno ottenere il baio finale della cassazione perché la confisca è una misura accessoria una sanzione accessoria è accessoria rispetto alla condanna per il reato ovviamente se cade il reato perché ad esempio si dovesse assolverli tutti ovviamente cadrebbero anche le confische collegate al reato quindi sono attualmente sotto la stessa spara di Damocle le confische sotto la quale pendono le condanne poi una volta rivenute definitive qua lo sappiamo ma di comunque altro partirà il solito procedimento amministrativo riferito ai vieni confiscati alle associazioni mafioide quindi la passeranno in gestione all'agenzia nazionale verranno riassegnati questo sappiamo che purtroppo è un itera a volte troppo lungo grazie prego va bene grazie